Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a San Severo per una civica protesta, civile protesta anche se non autorizzata perché riteniamo che non c'è più tempo di attendere. È una protesta proposta che riguarda l'ospedale di San Severo dove siamo in carenza di medici, in carenza di infermieri, in carenza di personale sanitario in genere non abbiamo certezze di reparti, l'ospedale di ciascitudine si apre, si apre, non si capisce nulla quindi riteniamo di dover avere delle risposte certe e concrete da parte intanto di un'amministrazione regionale scellerata che come al solito dà l'accontentino agli amici e agli amici degli amici e poi riteniamo che questa nostra protesta che si rifarà normalmente il 18 con un lungo corteo debba portare alle dimissioni di Piazzolla, il quale Piazzolla anziché essere il direttore sanitario di tutta la provincia di Foggia fa il direttore soltanto dell'ospedale di Foggia questo è inaccettabile soprattutto in questo specifico momento di emergenza sanitaria risposte certe, tempi certi e garanzia che la sanità sia garantita a tutti e per tutti risposte certe, tempi certe, tempi certi e viele rue risposte certe, tempi certe, tempi certi, tempi certi, tempi certi e grazie a tutti e anche agli amici